Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, mondo carri allenatori, io sono sempre Andre e oggi ragazzi iniziamo o comunque siamo qua con un nuovissimo video un po' particolare e un po' diverso dal solito perché oggi siamo qua sempre con i migliori giovani, quindi con i top under 21 ma i più veloci in assoluto, quindi con più velocità e accelerazione di tutti e secondo me è molto interessante per chi piace appunto i giocatori di questo tipo, magari un po' meno alti, magari anche un po' meno bravi nei passaggi eccetera ma che corrono e corrono e corrono e sappiamo che comunque in quasi praticamente tutti i FIFA avere i giocatori veramente veloci è sicuramente un valore aggiunto da non sottovalutare e qua ragazzi ce ne sono un bel po' tutti molto veloci e anche molto forti e abbastanza particolari come il primo Matt Hatch del Centered Coast Mariners, terzino sinistro o esterno sinistro australiano, ventenne 55 di overall ma non fatevi spaventare ragazzi perché ha 84 di potenziale cioè ragazzi cresce tantissimo, forse è impossibile crescere così tanto, da 55, veramente una crescita esponenziale considerando che ha 20 anni 1,80 per 75 kg, work di attacco alti e di difesa medi, anche se nasce come terzino quindi sicuramente magari è meglio spostarlo come esterno ma comunque in generale è anche un terzino che spinge a Latteo Hernandez Mancino che gioca a sinistra quindi non ci sono tipi di problemi, comunque 3 di debole e 2 massabilità che ci stanno 275.000 euro di valore con 500 come stipendio settimanale quindi veramente due spicci per un giocatore che come vedete ha 92 accelerazioni e 92 di velocità scatto con tra l'altro un buonissimo 67 di agilità e 61 di forza che considerando il 55 di overall di base sono veramente alti, è assolutamente sì per il resto ragazzi come vedete dal punto di vista sia tecnico che difensivo non è che possiamo aspettarci grandissime cose anche se comunque ha già una caratteristica speciale che è il driblatore veloce quindi sicuramente questo Mad Hatch non assolutamente da sottovalutare Yaya Dukuli ragazzi della Delaide United, esterno sinistro o esterno destro anche se secondo me almeno per il momento appena comprato deve giocare sulla sinistra essendo Mancino comunque 18 anni, australiano anche lui come Matt Hatch esattamente ragazzi 1,76 per 71 kg, 55 di overall lui con 69 di potenziale quindi lui cresce sulla base un pochino meno però ragazzi anche lui è molto interessante livello di attacco alto quindi anche lui un giocatore molto offensivo 300.000 euro di valore con 500 euro come stipendio settimanale e guardate 91 accelerazione, 93 verità scatto, 77 agilità lui rispetto a Matt Hatch è sicuramente un po' più indietro soprattutto anche a livello tecnico anche se a livello di passaggio lungo, passaggio corto e cross mi sembra molto più avanti come vedete infatti soprattutto a livello proprio di tecnica per quanto riguarda passaggio lungo, passaggio corto quindi sicuramente un giocatore un po' più pronto tra virgolette sempre a livello tecnico con anche lui derivatore veloce come caratteristica speciale l'abbiamo detto all'inizio, se vi interessano giocatori molto molto veloci che magari lasciano un po' da parte la tecnica almeno all'inizio di base loro sono veramente a casa vostra Jack Lane ragazzi della Mienz attaccante o esterno destro 19enne svedese con delle treccione clamorose 62 di overall ragazzi con 74 di potenziale saliamo un pochettino con l'overall di base quindi sarà sicuramente un giocatore un po' più pronto vale anche leggermente di più 950.000 euro di valore con 850 come stipendio settimanale con ragazzi 93 accelerazioni, 92 velocità scatto, 81 agilità, 88 equilibrio, 91 elevazione è veramente ragazzi un giocatore particolarmente forte c'è veramente poco ma poco da dire con anche come vedete dal punto di vista tecnico sicuramente delle statistiche molto molto migliori rispetto ai due che abbiamo visto per ora con anche tra l'altro 63 di rigori quindi un ottimo rigorista con anche soprattutto 66 di finalizzazione e anche lui 3 su 3 per il momento derivatore veloce come caratteristica speciale occhio al possibile erede di Larsson, l'icona leggenda svedese Simon Steele, non lo so ragazzi ditemelo voi nei commenti giocatore della Nover esterno destro alla destra o quinto di difesa a destra 19enne tedesco 59 di overall ragazzi con 74 di potenziale quindi stesso potenziale di lane ma ragazzi qualche punto in meno di overall 182 per 80 kg, work media medio quindi sicuramente per questo che può fare un po' sia ruoli offensivi che difensivi 3-3 possibilità e piede debole 525.000 euro attualmente è via in prestito quindi sicuramente può crescere ancora un pochino 93 accelerazioni, 90 verità scatto, 71 agilità e 73 equilibrio poi anche una buona forza, una buona soprattutto elevazione dal punto di vista difensivo ragazzi va allenato perché 22 lettura difensiva insomma è bassettino non a caso può fare due ruoli su tre come attaccante quindi molto più offensivo 61 di finalizzazione ottimo, assolutamente sì lui non ha nessuna caratteristica speciale quindi purtroppo ci interrompe la serie di 3 su 3 con derivatore veloce però ragazzi anche lui può essere una buona alternativa tedesca a qualche giocatore particolare perché no Dildar Atmaka, giocatore del Fussberger Kickers tedesco anche lui, 18 anni ragazzi, 60 di overall con 74 di potenziale non abbiamo più il tris di derivatore veloce ma abbiamo il tris di 74 di potenziale tutti e tre con un overall di base diverso 1.74 per 67 kg, 3.3, mossa abilità e piedi debole esterno sinistro, 575.000 euro di valore, 500 come stipendio settimanale boom, 92 accelerazioni, 90 verità scatto, 88 agilità e 90 equilibrio quindi questo 90 equilibrio mi fa pensare a un giocatore che riesce a portare tanto la palla ed è difficile togliergliela perché non è così facile spostarlo o comunque magari mentre corre perde l'equilibrio sai quelle cose lì no, lui veramente è un giocatore che riesce a mantenere agilità, velocità, accelerazione nel tempo e anche nella corsa questo 40 di forza invece a livello fisico può essere un po' più scarsettino ma comunque buono a livello tecnico, ottimo dribbling, finalizzazione che sicuramente è da migliorare quindi 55 ci può stare, è un esterno però comunque ci può stare eccolo qua che ritorna il derivatore veloce come caratteristica speciale quindi 4 giocatori su 3 con più velocità di tutti hanno il derivatore veloce Kelvin Yeboah, finalmente anche una conoscenza italiana attaccante del Genoa molto interessante 21 anni italiano, 1,85 per 73 kg, 69 di overall con 77 di potenziale con 3,3 possibilità epidebole ragazzi, 3,2 milioni di valore quindi non è proprio così super super economico guardate che belle statistiche, 91 accelerazione, 91 velocità scatto, 79 agilità, 91 elevazione, resistenza 73, forza 70, reattività 72, posizionamento attacco 71 occhio a questo Kelvin Yeboah che poi per quanto riguarda le statistiche sono abbastanza interessanti soprattutto la finalizzazione 69 ci sta assolutamente, potenza tiro 69, rigori 68 può essere anche quasi un rigorista della vostra squadra, controllo palla 66 dribblatore veloce come caratteristica speciale, altro giocatore ragazzi con dribblatore veloce sicuramente un'ottima alternativa, poi è italiano, gioca al Genoa quindi sicuramente è interessante anche magari per carriere in Italia o comunque carriere dove dovete prendere magari qualche giocatore italiano se ve lo siete imposto e ultimo ragazzi giocatore di oggi, un giocatore veramente interessante che a me piace tantissimo Ricky Jade Jones del Pederborg United ragazzi attaccante, 18enne inglese, 62 di overall con 79 di potenziale, 3 massabilità, 3 di piede debole 1,83 per 70 kg, work sia di attacco che di difesa alti alti quindi un giocatore veramente che si sbatte tantissimo, 1 milione di valore 1.200 come si pensa settimanale, magari bisogna offrire tra il milione 100 e il milione 6 quindi diciamo che un milione 3 e siete belli che ha posto ragazzi 92 accelerazione, 91 velocità scatto, 82 agilità, 64 forza e 64 resistenza è un giocatore veramente molto molto tecnico e molto molto veloce anche se questo 82 agilità potrebbe un po' forviarvi, è veramente un giocatore interessante ma guardate ragazzi dal punto di vista tecnico poi sicuramente ci sono le cose migliori sicuramente ancora questo 62 finalizzazione è il valore migliore per quanto riguarda i passaggi lunghi, così così però passaggio corto, potenza tiro, tiro da distanza, tiro al volo, effetto insomma siamo tutti lì con delle bellissime statistiche abbastanza equilibrate che sicuramente una volta allenato può essere interessantissimo con anche ragazzi dribbatore veloce anche lui come caratteristica speciale quindi praticamente 6 giocatori sui 7 che abbiamo visto oggi ce l'avevano tra l'altro mi sembra soltanto questo still non avesse la caratteristica speciale esattamente quindi per il resto ragazzi ottimi ottimi giocatori quindi ragazzi siamo alla fine anche di questo video ditemi ragazzi se uno l'avete trovato interessante e due se vorreste un secondo episodio con i migliori giocatori più veloci o anche magari qualche altra caratteristica in particolare iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, attivate la campanella e noi ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi